Brilla ancora l'estate sul cielo della cittadina balneare normana di Deauville, che a settembre si anima anche delle star americane del cinema per il suo festival annuale. A giudicare dall'elenco degli artisti presenti a Deauville, sia nella competizione che negli omaggi alla carriera, questa 39esima edizione del Festival del Cinema americano si preannuncia particolarmente attraente. Dottore Michael Douglas e il regista Steven Soderbergh sono stati tra gli ospiti della prima ora, in vista della proiezione del loro film Behind the Candelabra, in cui Douglas interpreta il virtuoso del piano Valentino Liberace. Come noto ho affrontato un tumore, così abbiamo dovuto ritardare il set, e quindi ho avuto molto tempo per provare. Hai la responsabilità di tentare di ricreare una persona dal vivo, ed è la prima volta che mi capita così. Per Soderbergh questo è l'ultimo lavoro tradizionalmente cinematografico. Adesso inizia una nuova stagione per lui, su un altro genere di set. Il mio futuro è in televisione. Fra un mese inizio a girare un serial di dieci ore, il titolo è The Nick, ed è ambientato in un ospedale new yorkese ai primi del Novecento. Behind the Candelabra narra invece la storia dell'amicizia fra Liberace e il giovane Scott Thorson, interpretato da Matt Damon. Il primo dei quattro premi alla carriera che Doville quest'anno distribuisce è andato a Cat Blanchet. Impegnata negli ultimi anni sui palcoscenici teatrali, soprattutto in Australia, l'attrice non ha comunque disertato il set. Doville dedica ai vincitori una cabina sulla spiaggia. Euronews le ha chiesto qual è stato il personaggio che ha amato di più fra i tanti interpretati. Ho cercato di non innamorarmi troppo, siamo all'esperienza di girare. Ho apprezzato i lavori con Ron Howard, Missing, e mi è piaciuto moltissimo girare a San Francisco con Woody Allen, probabilmente anche lavorare con Todd Hines. Soderbergh era qui. Mi avrebbe entusiasmato lavorare ancora con lui se non avesse lasciato il cinema. In cartellone a Doville c'è anche l'ultimo film di Woody Allen, Blue Jasmine, in cui la Blanchette è la protagonista, una donna dell'alta società new yorkese che dopo il crollo finanziario e l'arresto del marito si trasferisce dalla sorella San Francisco, completamente al verde e per la prima volta costretta a fare conti con la dura realtà della vita. Il mio amico era un operatore slitto. E' stato lì una settimana e c'era che il ragazzo era a scoprire una ragazza. E' stato detto, non posso, non posso. Tra gli altri film del grande schermo a Doville segnaliamo The Butler di Lee Daniels, in cui Forrest Whitaker interpreta un cameriere nero che per tanti anni è stato il maggiordomo di diversi presidenti degli Stati Uniti d'America. Ci sono state non poche difficoltà nell'interpretare questo personaggio, che ha dei tratti specifici. Lee ha fatto questo grande viaggio, questa ricerca, per poi riportarmi l'esperienza delle sue scoperte. In questo processo, anche nelle difficoltà del lavoro, ho sempre provato gioia. Nel plot, il cameriere afroamericano è testimone oculare di importanti eventi storici alla Casa Bianca. Il film è l'adattamento cinematografico dell'articolo di giornale e battle well served by this election. Scritto dal giornalista Will Haggard e pubblicato sul The Washington Post, che narra le vicende di Eugene Allen, maggiordomo della Casa Bianca per oltre 30 anni.